Lo scorso sabato due uomini incappucciati hanno tentato di introdursi nel Banco delle Opere di Carità di Bitonto. E' con noi il Presidente del Banco, Marco Tribuzio, a raccontarci l'accaduto. Il sabato scorso alle 21.35 due persone incappucciate, vestite di nero, hanno cercato di introdursi in questa struttura hanno prima forzato le sbarre che separano la struttura dall'esterno e poi si sono introdotti, hanno forzato la serratura di questa serracinesca ma per fortuna il ragazzo che vive qui, Martin, ha sentito subito dei rumori, si è accorto che queste persone stavano cercando di forzare la serranda e ha subito dato l'allarme. E' la seconda volta che provano a fare un furto nel Banco delle Opere di Carità. Qual è la vostra rabbia? La rabbia è chiaro, qualsiasi furto, far rabbia, qualsiasi azione criminale procura questo Stato nelle vittime di queste azioni. Certamente è ancora maggiore la rabbia nel momento in cui si va a togliere quello che è l'aiuto nei confronti delle persone più deboli ad opera di malviventi. Quindi il danno è doppio non solo nei nostri confronti ma anche nei confronti di tutte quelle persone che per colpa dei furti magari non potranno ricevere i prodotti che a loro sono destinati attraverso la rete delle mense, dei centri Caritas, delle associazioni di volontariato. Quindi la rabbia non è solo per l'atto subito ma perché questo atto poi procura un danno anche a delle persone che già sono in condizioni di difficoltà. Con questa seconda ondata di contagi la richiesta d'aiuto è alta? Certo, certo. E ancora dopo il lockdown comunque le persone che erano in difficoltà faticano ad uscire da questa condizione. Quindi le richieste nei confronti di tutti i centri che distribuiscono aiuti sono aumentate. E sebbene ci siano dei casi di persone che hanno ripreso le loro attività e quindi hanno deciso di rinunciare a questo tipo di aiuti, ce ne sono tanti altri invece che ne hanno ancora bisogno e insomma questi aiuti rappresentano un grande supporto per il soddisfacimento dei propri bisogni.